benvenuti benvenuti a scalea ci siamo lasciati stamattina a piazza del ferrarese come andate con le zavorrine dietro benissimo 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 voi avete la zavorra io ho la zavorrina benvenuti benvenuti qui al hotel parco dei principi ricordatevi di mettere il timbro e poi ci vediamo dopo ancora questa è una faccia sofferente diciamo ma è il minimo no dai non mi riprenda va bene non la riprendo benvenuta comunque